Perché uno si fida delle tecniche del Kramagà, del Kramagà come sistema? Qualsiasi sistema che abbia gli stessi presupposti, ragazzi, Kramagà non ha l'esclusiva, per favore, grazie. Perché? Perché ciò che facciamo ha in sé le chiavi per trattare qualsiasi tipo di problema che abbia le stesse caratteristiche. Ecco perché funziona anche se noi non sappiamo esattamente che cosa può capitare. Perché finché sappiamo che è un pugno diretto, grazie, finché ho un avversario che mi dice che mi tira un pugno diretto, io sono tranquillo. Poi però quando la situazione è imprevedibile, che cosa succede? Succede che in verità io so trattare un'ampia gamma di situazioni perché gli strumenti che ho mi consentono di correlare ciò che ho e di adattarlo a quella che è la problematica contingente. Grazie.